Raccontare le aziende per valorizzare i prodotti locali e far crescere il territorio lombardo. Coop Lombardia lunedì ha presentato presso la Camera di Commercio Svizzera le oltre 100 aziende locali che collaborano da tempo con la cooperativa. Un modo per far conoscere le eccellenze enogastronomiche e offrire l'opportunità ai consumatori di scoprire il valore dei fornitori, le tradizioni e le storie. Abbiamo voluto dare la massima enfasi in un momento molto difficile come questo per la nostra economia a dei fornitori locali. I risultati, proprio in questi giorni, visto che la promozione è iniziata a fine agosto e si concluderà fra una settimana, questi fornitori hanno sviluppato il doppio del fatturato che sviluppavano l'anno scorso nello stesso periodo. Non parlando di promozione di prodotto, ma parlando della storia delle loro aziende ed evidenziando e facendo degustare i loro prodotti. Quindi sono molto contento di questo risultato. Il buono del nostro territorio, l'avete chiamato così questa campagna, perché? Perché effettivamente i prodotti sono buoni, ma volevamo tirare fuori quanto di buono c'è nelle produzioni lombarde e dare un'enfasi ai nostri soci nei punti vendita, ma anche ai consumatori. Il progetto nasce per rafforzare la collaborazione con le imprese locali, per favorire un consumo di qualità e far crescere l'economia locale. Legato all'evento, una promozione per i consumatori. COOP ci ha permesso di lanciare la nostra innovazione, tra virgolette, della nuova generazione, che è una filiera totalmente lombarda. Noi ci siamo inventati appunto questa filiera, con dei suini nati, allevati e lavorati in Lombardia. La prima filiera certificata da noi, insomma 100% medio in Lombardia, con dei prodotti di altissima qualità che mantengono sempre quella parte importante delle radici e dei valori che ci contraddistinguono. Lei è un produttore uno dei 100 scelti oggi per rappresentare il buono della Lombardia. Che effetto fa? E' molto importante, ne sono onorato perché i prodotti della provincia di Sondrio sono eccezionali e vanno sicuramente promozionati e trovare i punti di vendita giusti che ce li richiedono.